Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ho mostrato senza debiti quindi non sto facendo più di tanto Ma hai fatto l'esame di terza media? Ho fatto l'anno scorso Ah, porco diaz, scusami Allora, no Allora È un dettaglio che molto spesso mi... Tu sei 05 giusto? 06 06 06 Scusami un attimo, devo mandare giù un attimo Scusami, no davvero vera fuser Scusami Però... Perché purtroppo Davide Ok, ok, mi fa piacere questa risposta Virginia Stessa cosa Cioè esco e rientro Good shit, bro Mamma mia che genio Dirlo perché dopo può raccontare male Da sotto al tavolo una mia ex Diciamo che... Dietro c'avevo la finestra Quindi si vedeva questa mia ex che andava sotto il tavolo A gattoni Infatti dopo ho cancellato tutto, ho riavviato tutto Però ste cose a me non mi vale dirle, Green, veramente Ma io non ti ho obbligato a dirlo No, 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 vabbè Comunque è successo È successo Cioè no, che nel senso O il tuo ragazzo o qualche tuo ex Non ho qualche tuo ragazzo La re dedicata al mio ragazzo Attuale Ah, attuale Ok, quale gli ha dedicato? Live Quindi mi mando un bacio Ciao Come ti chiamo? Guido Ciao Guido Ciao Guido Auguri avverso Auguri avverso il compleanno ragazzi Non è il compleanno Non è il compleanno Ah Ciao Sei qua per la popular? Sì Ciao Io penso di riuscire a cagare cinque volte al giorno Che cazzo sei? In forno del merda Ma è uscito Ma è uscito Ma è uscito Ma comunque Attaccare una persona che non devo attaccare Perché magari non è lui Ma io credo che quello che mi ha tirato lo spinto nel finale Sia Marco Poci Ora Non Sia Marco Poci Ora Che cazzo? No, è un mio moderatore Ti dico la verità Non so che questa accusa può essere veramente Veramente pesante Però Io veramente Credo che Cioè Ci sarebbe anche il buon motivo Capito? Per questo Mi viene anche facile pensarlo Cioè Io sono abbastanza convinto Che lo spintone finale Mi sia arrivato dal Poci Ma tu sei tipo il penguin? Cioè Sei tipo una che Dà I pronostici? Cos'è? Cosa vuol dire pronostici? Io non so In che senso Cosa vuol dire pronostico? Io non lo so Non so cosa vuol dire Scusate un attimo Tranquillo Nel senso Miriam Posso sapere cosa fai? Cosa faccio? Cioè Fai schiettine Eh appunto Cioè 1x cosa vuol dire? 1x Io riscrivo Cioè loro mi dicono Questi codici Ok Dico 4602 E mi scrivono 1 Ok Poi mi scrivono 1 Gol Quindi combo 1 94 Io faccio così Veramente una vergogna Adesso c'è il cecchino in chat Lui pensa di sfuggire a queste cose Adesso ve la faccio vedere io Cosa scrive Guardate Guardate Complimenti 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 Cioè diciamo A me è tipo quello che mi attrae di più dalla copertina Mettiamolo così Giusto Il titolo C'è un bel ragazzo No il titolo Non lo leggo Ah voi guardate i ragazzi Cioè voi guardate i ragazzi nei porn No io non guardo il ragazzo Tu guardi la ragazza Ti guardi? No io Ma guardano il cazzo Cosa guardano? Dai Vez Ma scusate Scusate Vez Un po' di rispetto Io dicevo In base a Tipo la copertina Cioè l'immagine che c'è Se mi attrae lo apro Se vedo che mi piace Ok Se no ciao Vabbè dai Tanto Noi resisti Io bene Ma poi quanto cazzo sei alto bro E' alto un botto Anche sono alto un botto Sembra un giocatore del basket È stra alto È stra alto eh Non sono lungo però Cosa? Ah sentito Non sono lungo Ah hai sentito bene E non sono lungo Cazzo Uno dei tiktok più virali mia Pensa che vomito Sì 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 Gineva potresti mettere il telefono in orizzontale Se riesci ad attivare la rotazione schermo? Aspetta Aspetta Noi ti vediamo Hai la ringlite? Cosa? Non so come funziona in Twitch Sì ho la ringlite Sì Ah è la ringlite La ringlite è tipo quella dei tiktoker Che c'è La riuscita quella della tonda Eh dopo il pan C'ho veramente C'ho veramente l'incubo ogni volta Quindi Vabbè ma è normale È normale bro Cioè non puoi essere contenuto bro Sì 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 Oh Jennifer Per favore Puoi stare attenta Ti prego Vets controlla di Ma poi è un uovo Lui non è più un Vets Eh no è perché Vabbè io non so Sì e Vets è diventato un uovo Perché Possiamo Doppiaggio Doppiamola Ma noi non ti stiamo mettendo a disagio vero? No Ok grazie Fa piacere No perché a volte dicono che metto a disagio la gente Io non capisco proprio questa cosa No perché a volte dicono che metto a disagio la gente